I'm the Trumpster, motherfucker 15.000 credit Lo guardo Guarda voi No, lo guardo neanche voi Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare Una beata minchia Aspettiamo No, aspetta Aspettiamo Questo anche 141 E questo abbiamo tutto al club E poi ci penso io a fare tutto A mettere tutto a posto Poi Altro pacchetto E vediamo un po' Cosa riusciamo a trovare Cosa riusciamo a trovare Attenzione Dai Neanche un giocatore oro Bella merda Bella merda Quanti pacchetti ci sono Ce ne saranno 10 come al solito Più meno Più meno Nessuno Mamma mia Neanche un giocatore buono Oro Non è che chiedo tanto E Vediamo 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 se c'è il mio cane qua dentro Oh Non guardo Non guardo Uno schifo Uno schifo raga Uno schifo Uno schifo Non ho trovato niente Non ho trovato niente Non ho trovato niente Un cazzo Un cazzo Un cazzo Beh è buono Finalmente Che poi Che poi non è neanche Non è neanche malaccio eh sto portiere Perfetto Perfetto raga Un cazzo Perché sono di Sono Scarta 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 Vediamo un po' Un'è andata raga C'è andata di culo Anche se Non varrà un cazzo eh Perché non varrà un cazzo Attenzione 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 Non guardiamo Art Beh no Wolcott Niente Sto giro non abbiamo trovato un cazzo Vediamo un po' Ne mancano tre Attenzione Ne mancano tre raga Io nell'ultimo Sono sempre fortunato Ferrandino Rossi Oh Pacchetto Pacchetto Bella C'è molta più probabilità di trovare qualcosa Molta Insomma Pacchetto Non è che Attenzione raga Guardiamo Guardate tutti la mia faccia da culo Uh 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 Andiamo un po' Guardate la faccia di culo di Beppe Andiamo un po' Santis Jeffers Andergas Buono E ovviamente Stemma del Bayern Fammi trovare qualcuno del Bayern no? Fammi trovare lo stemma Fammi trovare qualcuno del Bayern e Ma io ci rambe Bombe Attenzione Andiamo un po' che torniamo oh mio dio top rank signori ora non è duro il blu ora abbiamo veramente cazzo fa paura 81 di velocità 88 di difesa 86 di difesa puntata l'ho e non ci vedessi come si è detto che avevano usato il photoshop per me per lo scorso video e niente oh guarda è rimasto anche l'uomo ma c'è la nuova se voglio guardiamo 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 2 blu e 1 nero il culo infinito di beppe non finirà mai mamma mia signori che botta di culo che botta di culo io non ho parole spero che valga tanto cioè insomma da farsi su almeno insomma 300 400 crediti ho trovato 2 blu e 1 nero facendoci un conto 1.84 1.89 il video è finito spero che vi sia piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al mio canale passate dalla mia pagina facebook che è sempre in descrizione noi ci mettiamo al prossimo video che sarà un altro pack opening a 20 mi piace ne faremo un altro io vi saluto ci mettiamo alla prossima e da Beppe è tutto bella